E' qua, Tyson. Metti il marchio sul piedistallo, presto! E' qua! E' qua! E' qua! E' qua! E 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 qua! Grazie, Isaac. Ho sempre creduto in te. Nicole. Siamo di nuovo uno. Siamo uno. Emergenza. Legami geo-orbitali disattivati. Carico tetonico rilasciato. Impatto imminente. A tutto il personale. Evacuazione immediata. Il carico. Riavvio il legame e guadagno tempo. Errore. Semprissino controlli legami gravitazionali. Avanti, avanti. No, Isaac. Non c'è alcun rimedio. Lasciala andare, Daniels. Lasciala qui. Non capisci che è un'illusione. Dobbiamo andare. Il carico delle trevellazioni sta per cadere. Ti ho dato l'opportunità di ragionare, Isaac. Ma se sei ancora cieco, ti aiuterò. Un'ultima volta. Collegamento rigantirato. Questa volta. Osserva fino alla fine. Isaac, sono io. Vorrei parlare con te. Mi dispiace. Mi dispiace per tutto. Potessi parlare con qualcuno. Qui va tutto a pezzi. Io non ci posso credere. E' strano. Una cosa così. Come parlare. Alla fine era questa la sua ricerca. Non molto, vero? Come farlo ascoltare quando implorava la convergenza. Ma io pregavo altro. Ha parlato. E ascoltato. Fallo smettere, ha detto. Forse capiva, ma... Non posso restituire. Perché non posso rivederti, Isaac. Ti amavo. Ti ho sempre amato. Lei è Elisabeth Cross, la scienziata dell'Hidroponica. Avete visto ciò che il marchio voleva mostrarvi. Jacob Temple per lei e Nicole per te. Jacob... No! No! Nicole è sempre stata morta. E tu lo sapevi, vero? Forse sapevo che qualcosa non andava, ma lei... Ha sopportato così tanto e... Almeno sarà in mani sicure. Il marchio non renderà più nessuno un murattino. Dammi il comando. No. È finita. Siamo di nuovo... Salto cielo, non te lo chiederò più, Cross. No, sono morte troppe persone. Forza, allora. Non ho più niente da perdere. Cross! E' meglio così, Isaac. Non ti riprenderai da ciò che il marchio ti ha fatto. Quando il carico tettonico crollerà, tutto verrà sepolto. Come voleva il governo terrestre. Attenzione, attività sismica in aumento. Raggiungere una zona sicura. La novetta. Posso ancora farcela prima che lei parta. Cosa che potrà. Dispettiamo un'importante. La novetta. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti